Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di correlazione fra Bitcoin e i mercati azionari, S&P 500 in particolar modo. Un mesetto fa circa, ragazzi, ho fatto un video dove parlavo della correlazione tra S&P 500 e Bitcoin e facevo vedere appunto come nell'arco dell'ultimo mese, nel mese di marzo ed aprile, questa correlazione si era accentuata, ma spiegavo anche che non era così nel lungo periodo. Però, ragazzi, nelle ultime settimane nei vostri commenti, quelli che mi lasciate sempre sotto i miei video, ho notato una cosa un po' anomala, cioè molti di voi pensano che esiste questa correlazione fra Bitcoin e S&P e mi fanno una serie di domande relativamente al fatto se S&P 500 crolla, Bitcoin dove andrà, dove scenderà? Insomma, ragazzi, ho notato che c'è evidentemente un po' di incomprensione relativamente a questo argomento e quindi mi è venuto in mente di fare un video dove andiamo a spulciare l'argomento della correlazione fra Bitcoin e i mercati azionari, andiamo a vedere tutto quello che ci interessa veramente a capire se effettivamente utilizzare questa cosa, quindi la correlazione fra strumenti finanziari, può essere utile per voi mentre fate questa attività di trading, oppure, ragazzi, dobbiamo ragionare su un'altra mentalità, con un'altra mentalità e lo vedremo in questo video. Ma prima di andare avanti, ragazzi, vi devo chiedere di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un super pollice che mi aiutate con l'algoritmo e fatemi sapere cosa pensate di quello che vedremo oggi perché facciamo, guardiamo un po' di alcuni grafici anche sui mercati azionari e Bitcoin e poi vi faccio vedere appunto la correlazione e spiegheremo anche come ragionare relativamente a questo argomento. Bene, detto ciò, ragazzi, io mi sposterei sui grafici per vedere quanto vi ho appena detto, ragazzi, quindi spostiamoci sui grafici ed eccoci, ragazzi. Allora, questo intanto che vedete è l'S&P 500, quella che vedete in questo momento è una mia operazione che ho indicato su SP500 lunedì, ragazzi, questa operazione con un pattern che spiego, insomma, nei miei vari corsi di formazione, nella mia trading on academy, insomma, sta andando a profitto ma ancora non è chiusa. La elimino perché in questo momento volevo farvi vedere una cosa importante. Allora, oggi, mentre Bitcoin ha ritentato il testing della zona 10.000 dollari, in questo momento è stato respinto, ragazzi, ma vedremo anche probabilmente nei prossimi giorni, spero nel weekend, di farvi anche un video relativamente alla situazione di lungo periodo di Bitcoin post halving e vedremo un po' di ragionare insieme. Però, quello che volevo farvi vedere in questo caso è come l'S&P 500 segna, ragazzi, un meno 1,48, questo è il Fuzzimip Italia che ovviamente va sempre peggio, ragazzi, però Bitcoin esattamente l'opposto, ragazzi. Guardate che candele verdi, più 4,32 nella candela di oggi, vedete, in questo momento ve lo ingrandisco. Questa è la candela di oggi per quanto riguarda Bitcoin, questa è la candela di oggi per quanto riguarda S&P 500, ma poi soprattutto, ragazzi, un'altra cosa che è stra-evidente, le tre candele finali, vedete, di S&P 500 contro le ultime tre candele di Bitcoin opposte, ragazzi, se così si può dire, cioè palesemente opposte, ragazzi. Questa cosa è l'argomento di cui parliamo oggi, proprio questo discorso. Perché, ragazzi? Perché in moltissimi io ho notato che hanno pensato appunto che esistesse una correlazione fra Bitcoin ed S&P 500 per via del fatto che nell'ultimo mese questi mercati sono stati vicino. Ma questa correlazione, ragazzi, vi farò vedere i dati in questo momento. L'avevo già spiegato nel video del mese scorso, ma questa correlazione era momentanea, ragazzi. Non è una correlazione che poteva durare. Perché? Perché Bitcoin non ha nessuna correlazione con nessun strumento finanziario in particolare. Se proprio volessimo buttargliene una addosso, ragazzi, ha un po' di correlazione con l'oro come strumento finanziario hold. Però, ragazzi, è un azzardo perché dire che è correlato o no. Direi che è più vicino. Diciamo, si muove un poco poco meglio con l'oro rispetto ai mercati azionari. Al massimo è correlato con le altcoin. Come Ethereum, ragazzi, per esempio, è molto correlato con Ethereum. Direi che è Ethereum che è correlato con Bitcoin, ragazzi. Però è anche vero che spesso e volentieri in questi ultimi anni le altcoin non hanno performato bene, ma lo vedremo in un video che ho in serbo per voi, un video sulle altcoin, ragazzi, che è bellissimo. Lo sto realizzando, lo sto scrivendo proprio in questi giorni. Ma andiamo a vedere di nuovo, vi faccio vedere di nuovo il grafico della correlazione perché vi ho anche preparato un sito dove potete andare voi stessi che è Coinmetrics. Ragazzi, qui trovate una serie di dati. Vabbè, se comunque non volete farlo voi, qui, ragazzi, c'è la correlazione per quanto riguarda Bitcoin. Qui potete anche sceglierla. Io ho messo Bitcoin. È Standard & Poor's 500. Poi potremmo vedere anche quella con l'oro, per esempio, ragazzi. Questa è quella con l'oro, che è il GLD dell'ultimo mese, ragazzi, ultimi tre mesi circa. Allora, vedete in maniera abbastanza chiara come la linea blu ci indica che negli ultimi tre mesi la correlazione fra, intanto l'oro lo caccio ragazzi, la correlazione fra Standard & Poor's 500 e Bitcoin è salita, ma da quando, ragazzi, esattamente ha iniziato a salire, vedete? Insomma, è salita tantissimo, dalla 11 marzo in poi. Questa non è una casualità. Perché, ragazzi? Perché dall'11 marzo i mercati azionari e Bitcoin hanno decelerato e questo è significativo perché nel momento in cui i mercati hanno decelerato Bitcoin si è correlato ai mercati tradizionali. Perché, ragazzi? Perché la discesa di marzo è stata una discesa di natura emotiva. I mercati delle cripto, lo abbiamo detto per tutto marzo, non avevano motivo di crollare, anche perché l'economia reale non viene toccata, non va ad impattare sui mercati delle criptovalute. Eppure, ragazzi, Bitcoin è sceso a piombo con quel meno 40%. Perché? Perché la discesa era di natura emotiva. L'ho spiegato in due o tre video, ragazzi, in quel periodo. Questo cosa significa? Significa che nel momento in cui la discesa è di natura emotiva e avviene anche sui mercati old, gli strumenti finanziari, ragazzi, vanno insieme, cioè si abbracciano. Quindi questa correlazione tra Bitcoin ed S&P 500 è avvenuta nella fase di ribasso dei mercati. Perché nelle fasi di crash dei mercati, ragazzi, c'è la cosiddetta sinergia e correlazione degli strumenti finanziari. Perché è un problema emotivo, tutti hanno paura, tutti vendono. Quindi tutti, boom, giù. Se vi ricordate anche l'oro è sceso nello stesso periodo di marzo, ragazzi. Quindi non è stata una cosa anomala. E quella che vediamo in questo momento qui sul grafico ci dimostra in maniera perfetta questa cosa qui, ragazzi. Cioè che negli ultimi tre mesi, dalla marzo in poi, quando è iniziata la fase ribassista dei mercati azionari, il Bitcoin si è andato a correlare in maniera discreta, anche se non tantissimo, con l'S&P 500, ragazzi. E su questo non c'è alcun dubbio. Però poi, da qui a dire che esiste una correlazione fra questi strumenti per il prossimo futuro, vi ho già spiegato, non è del tutto corretto. Perché dobbiamo andare a vedere se effettivamente, storicamente, questo tipo di strumento era correlato o meno a Bitcoin. E vedremo che non è così, ragazzi. Infatti, se andiamo ad allungare i tempi, per esempio, e già ci mettiamo a guardare un anno, ragazzi, un anno, vedete lo zero in questo momento è qui. Adesso io non riesco a disegnarvi qui una linea, ma lo zero, ragazzi, lo trovate qui a metà. Quindi, come vedete, nell'ultimo anno Bitcoin oscilla intorno allo zero, passando da 0.1 a meno 0.2 di correlazione, che significa nessuna correlazione. Quindi, né correlazione positiva, né decorrelazione. In pratica, Bitcoin non gliene frega niente, ragazzi, di quello che fa l'S&P 500. E se aumentiamo ancora di più, magari, la durata, quindi il periodo, ragazzi, riusciamo a vedere che il tasso di correlazione è ancora, ancora, diciamo, più appiattito verso lo zero. Allora, vedete, questa è uno, insomma, show all, quindi lo mostriamo tutti qua, tutti i dati che abbiamo dal 2012, ragazzi, vedete in maniera molto chiara che queste oscillazioni, uno su e uno giù, sono oscillazioni di correlazione che vanno dal più 0.15 al meno 0.15, ragazzi, questo significa che non c'è, nessuna correlazione. Non esiste, ragazzi, vedete, è proprio totalmente indifferente ai mercati hold. Poi però ha questi picchi, vedete, di momenti in cui la correlazione sale per un determinato periodo e poi se ne arriva a scendere. Quindi qui siamo in un altro di questi picchi, quindi probabilmente, l'avevo detto anche nel video fatto un mese fa, probabilmente nei prossimi periodi continuerà a decorrelarsi, quindi a fare esattamente un'altra cosa, ragazzi, proprio perché probabilmente vedremo questo indicatore ritornare giù, ragazzi, a indicarci che la correlazione fra mercati hold e mercato criptovalute bitcoin è completamente assente. Questo significa che non possiamo utilizzare Standard & Poor's 500 per fare operazioni di trading su bitcoin, ma potevamo farlo nell'ultimo mese, come appunto vi avevo detto all'interno dell'ultimo video, ragazzi, perché il trader può utilizzare queste informazioni per, diciamo, decidere come cosa fare e questo è chiaramente possibile, ragazzi, ma nell'ultimo mese questa correlazione c'era, quindi si poteva utilizzare, ma io avevo anche detto in maniera chiara che sarebbe finita tra pochissimo tempo, quindi potevamo usarla solo per poco. Perciò, ragazzi, quello che fa SP500 con quello che fa bitcoin non è correlato, perciò se SP500 dovesse crashare in maniera estremamente rilevante potremmo avere delle ripercussioni su bitcoin solo ed esclusivamente per una questione di natura emotiva, ragazzi, ma poi sarebbero riequilibrate. Non è detto che questo avvenga tra le altre cose, ragazzi, perché a marzo è avvenuto un atteggiamento del genere probabilmente per una concatenazione di cause, la prima volta nella storia dopo 100 anni di una pandemia, insomma, una serie di cose estremamente rilevanti, ma questo discorso, ragazzi, anche che, insomma, se i mercati azionari dovessero scendere nei prossimi mesi perché sono magari in questo momento un po' troppo quotati, vedremo che c'è un po' anche di maretta in questi giorni proprio per questo motivo, ma non serve un altro video per voi già registrato, perché questo esce domani. Insomma, ragazzi, non è detto che bitcoin crolli, è anche vero che dobbiamo starci attento relativamente ai mercati delle criptovalute, dove? Dove? Negli discorsi legati all'analisi ciclica, ragazzi, perché purtroppo ancora non abbiamo informazioni su questi cicli di bitcoin di lungo periodo e su questo annuale. Certo, l'annuale sembrerebbe iniziato a marzo, da quello che sta facendo bitcoin sembra molto forte, ma bitcoin c'è anche abituato, ragazzi, e sono sincero, ha delle manipolazioni enormi, quindi non mi fido, fino a quando non vedo dei numeri, continuo a non fidarmi tutto qui, quindi sono, come si dice, a metà. Una bilancia fra una parte e un'altra. Va bene, ragazzi, abbiamo finito per oggi, questo era un video per spiegarvi la correlazione tra bitcoin e S&P 500, farvela vedere, avete un grafico, l'avete capita, non c'è nessuna correlazione, scrivetelo ovunque e condividetelo ovunque, cosicché questa informazione, ragazzi, possa essere il più diffuso possibile, in maniera tale che non ci siano errori da parte di altri trader o di investitori, ragazzi, va bene? Ok, spero di averla chiarita una volta, per tutte queste cose, va bene? Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video.